Un uomo normale, davanti alla fotografia di un gruppo di alunne, se dovesse indicare la più bella, non è detto che sceglierebbe la ninfetta. Bisogna essere artisti, folli, bisogna essere pieni di vergogna, di malinconia, di disperazione, per riconoscere in mezzo alle altre il micidiale demonietto. Spicca, tralegna le compagnie, inconsapevole anche lei del proprio fantastico potere. Era Loh, nient'altro che Loh, al mattino, dritta, nel suo metro e mezzo e un calzino solo, era Lola, in pantaloni, era Dolly a scuola, era Dolores, sulla linea punteggiata di documenti, ma tra le mie braccia fu sempre Lolita. Grazie a tutti.